Sì, io lo vedo bene che in questo momento lei è in difficoltà. Lo prego, prenda il denaro. Non posso accettare. Perché no? Beh, perché non saprei proprio come restituirglieli. Non c'è fretta, perché se c'è qualcuno di cui lei è debitore, è la piccola Teresa. È nella chiesa di Saint Marie de Batignol. Mi raccomando, non scorti l'indirizzo della santa. Andreas! Andreas! E adesso cosa fai? Bevo. Dormo sotto i punti. In questi ultimi giorni mi capitano spesso dei miracoli. Andreas! Come mi porti con quel bel vestito? Lo sai che non so ballare, no? Mai più ballato. Da allora. Lo so, avrei dovuto portare i soldi alla piccola Teares. Ve lo giuro, ci sono andato ogni domenica. Ma ogni volta, all'improvviso, qualcosa è andato storto. Mi deve credere, è successo così. E posso steppitarmi finalmente. Mi parec bodily, è successo così. ... Grazie per la visione!